Come si rivolgono a questo tipo di tutela? Perché ci troviamo di fronte a un collegio arbitrale composto da giudici molto esperti nella materia e quindi assolutamente specialistici su un tema che è quello dell'intermediazione finanziaria che richiede una particolare specializzazione. Inoltre i tempi rispetto a un giudizio ordinario, perché sono di un anno più o meno dal ricorso, sono sicuramente molto più vantaggiose rispetto a quelli che sono innanzi al Tribunale civile ordinario.